Cari amici, ben ritrovati da Giuseppe De Vitis. La lingua di fuoco che si avvicinerà, questa volta però, non interesserà in maniera diretta o meglio in maniera decisa la penisola italiana, ma comunque investirà ugualmente la penisola italiana. Adesso si trova tra la Spagna, lo Stato di Gibraltar, l'Africa più nord-occidentale. Sull'est Europa c'è ancora quest'area un po' più fresca che continua ad inviare dei refoli freschi sul versante adriatico, ma si esauriranno. E quindi la lingua calda africana, che sta appunto tra la Spagna e l'Africa più occidentale, si sta avvicinando. E nella giornata dell'undici, tempo bello, ovviamente, tempo bello, ma con temperature che aumenteranno ancora un po'. Il caldo si fa sentire su tutta la penisola italiana, tra l'altro, da nord a sud, da est a ovest. Avanza il caldo da sud-ovest verso nord-est e aumentano le temperature un po' dappertutto. Io mi fermo qui, buon proseguimento di settimana, anzi, buon inizio di weekend. Arrivederci.